Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno e come ogni giorno ragazzi facciamo subito il giro vediamo oggi chi è il fortunato e vince l'usi facciamo subito il giro ragazzi bentornati in questo unissimo video io sono Cecchinato e oggi siamo in unissimo video su Fortnite News per andare a vedere i nuovissimi leak infatti parleremo principalmente della patch 21.10 che verrà rilasciata ovviamente domani porterà un sacco di novità parleremo di tutto insomma in generale di quello che ci sarà nell'aggiornamento di domani e poi altre news prima di iniziare però mi raccomando il like se non sei ancora iscritto iscriviti con la campanellina e detto questo iniziamo con tutti i leak per oggi iniziamo innanzitutto con questa novità per quello che riguarda future collaborazioni per quello che riguarda più che altro skin di personaggi che arriveranno nel negozio i getti quindi c'è una lista veramente lunghissima li potete tranquillamente leggere comunque tutte queste collaborazioni che vedete potrebbero come no arrivare molte sicuramente non arriveranno o arriveranno comunque tra molto molto tempo altre potrebbero invece arrivare prima insomma sono i soliti sondaggi a cui insomma viene mandato questo sondaggio ai giocatori si chiedono le preferenze eccetera poi quelle più preferite di solito poi vengono messe nello shop e già che parliamo di collaborazioni invece queste sono delle collaborazioni in arrivo sempre su fortnite visto il nuovo sondaggio inviato di epic tra virgolette più insomma iconiche più importanti che sono con il trono in spade signore degli anelli dragon ball super e one piece queste sono tutte le collaborazioni diciamo che dovrebbero essere più o meno le più importanti ecco che potrebbero ovviamente arrivare su fortnite per quello che riguarda poi naruto ragazzi domani in teoria potrebbero essere già decriptate tutte le skin, tutti i cosmetici del set infatti come ben sapete c'è questa collaborazione con naruto che tra le altre cose stanno anche mettendo come lo è stato per l'ultima collaborazione dei post no? sui magari sui treni sulle sugli edifici insomma un po' sparsi dappertutto mettono questi post di naruto in collaborazione e come possiamo vedere vi metto anche le immagini e probabilmente ragazzi le skin, tutti i cosmetici le vedremo decriptate con l'aggiornamento di domani vedremo poi ragazzi anche se ci saranno le sfide come lo è stato per la scorsa volta con le ricompense gratis magari ci danno qualcosina anche emoticon magari una copertura armi o magari un deltaplano come lo è stato insomma l'altra volta vediamo vedremo se ci saranno ricompense anche a questo giro o meno questo sicuramente lo scopriremo domani ragazzi e ovviamente ragazzi non possiamo non parlare dell'evento estivo che varrà rilasciato domani o meglio varrà decriptato domani quindi verranno sicuramente scoperti gli items gratis quindi gli oggetti verranno sicuramente scoperte sfide le modalità in cui si gioca per completare le varie sfide però l'evento potrebbe iniziare giovedì quindi non credo che inizi subito questo martedì giovedomani ma credo che lo rilascino qualche giorno dopo insomma magari giovedì ma questo lo scopriremo anche domani perché ci sarà sicuramente l'evento nei tag cioè nei file di gioco quindi sicuramente lo andremo a scoprire anche questo domani mattina diciamo la data ufficiale quando incomincia c'è qualche diciamo piccolo spoiler già che vi posso dare innanzitutto le sfide verranno messe nelle creative quindi come l'anno scorso le mappe della creativa poi saranno a tema parkour quindi diversi insomma dallo scorso anno e niente questo è diciamo il tema delle sfide quindi percorrere dei percorsi parkour insomma roba varia e inoltre ragazzi abbiamo anche novità importanti per quello che riguarda le skin nuove che verranno ovviamente aggiunte con l'aggiornamento di domani beh le metto subito qua alla mia testa come possiamo vedere queste sono alcune delle skin che dovrebbero arrivare magari con l'aggiornamento di domani a tema estivo ovviamente non sono queste cioè non sono tutte queste e magari alcune non le sappiamo chiaramente e alcuni di queste sicuramente non verranno neanche riasciate però alcune dato che queste sono skin sondaggio alcune potrebbero essere delle nuove skin estive tra l'altro molto belle quelle al centro quella della skin del diavolo quella con tutta la il vestito da sub anche quella a sinistra che siamo un po' tema anime molto molto carine queste skin e alcune verranno sicuramente riasciate come skin estive altre no ragazzi bisogna vedere quindi grosso modo questo ragazzi è l'evento estivo quindi abbiamo visto un po' di skin abbiamo visto che le sfide verranno messe nelle creative a tema parkour eccetera poi verrà comunque tutto riasciato domani come anche le ricompense le vedremo sicuramente comunque con il video di domani mattina che faccio il recap di tutte insomma gli aggiornamenti che sono riasciati con la nuova patch per quello che riguarda invece le skin bonus anche queste dovrebbero essere riasciate con la patch di domani quindi le ricompense bonus si intende ovviamente le varianti delle skin del pass battaglia che potranno essere ottenibili per chi ha il pass e finito anche e poi probabilmente ragazzi anche verranno svelate la seconda pagina bonus di indiana jones che in realtà è già stata un po' svelata dovrebbe essere grossomodo questa quindi emot emoticon schermati caricamento e spray questa dovrebbe essere la seconda schermata di indiana jones quindi sembrerebbe nessuna seconda variante però mai dire mai potrebbe cambiare qualcosa potrebbe essere decryptato qualcosa soprattutto domani quindi sicuramente le vedremo comunque disponibili sia le pagine bonus normali che quelle di indiana jones in teoria già domani appena apriamo il gioco dopo l'aggiornamento quindi ragazzi questo è tutto mi raccomando lasciate un bel like domani mattina vi aspetto con l'aggiornamento recap quindi andremo a vedere tutto quello che è stato riasciato non perdetevelo attivate la campanellina direi che per oggi è tutto abbiamo visto diciamo grosso modo quello che dovrebbe arrivare con l'aggiornamento di domani e ci vediamo quindi domani mattina bella ciao